Con il tempo che ho passato tra buon compleanno Elvis e Miss Mondo, non lo so se mi sentivo arrugginito, mi sentivo smanioso anche di riprendere l'attività più piacevole di questo mestiere che è suonare. Credo che ve l'ho detto già un migliaio di volte, però evidentemente è un fatto che va precisato. Il senso di questo mestiere me lo dà a fare concerti, quando per tanto tempo stai senza fare concerti mi viene l'ansia di recuperare un rapporto con la gente che è questo qua dentro, con la gente che partecipa ad una festa che ti ho messo in piedi. Grazie a tutti. 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 con sedi e tavolini, la tv, telefonini e le facce lontano da chi, lontano da che lontano per sentito dire sento perché se vuole stare resta puro e ho da fare nomi neri per te cosa è, ma lo so che, io non so com'è che sta bene lì se non ti arriva al fosso sta bene lì se non ti arriva al fosso sta bene lì, sta bene lì, sta bene lì sta bene lì sta bene lì, sta bene lì, sta bene lì lì